Il ministro del Made in Italy Adolfo Urso e il commissario straordinario di Acciaierie d'Italia Giancarlo percorrono la rampa del campo di colata e salgono sul piano tubiere. Sono le primissime fasi della riaccensione dell'Alto Forno 1 dell'Exilva di Taranto spento ad agosto 2023 per manutenzione AFO 1. È stato riacceso aggiungendosi ad AFO 2 per aumentare la capacità produttiva del siderurgico attualmente in amministrazione straordinaria. La cerimonia trasmessa in streaming ha mostrato i primissimi atti dell'accensione dell'infrastruttura destinata a essere nuovamente spenta il prossimo anno per permettere la riattivazione dell'Alto Forno 2 e contemporaneamente riparare il crogiolo ovvero il dispositivo che permette l'uscita della ghisa bollente. È un segnale molto importante per l'industria italiana che può contare anche sulla propria impresa siderurgica per garantire il lavoro ai nostri cittadini. Aggiungo che io ho sentito il dovere di essere presente qui dopo poco più di sette mesi da quando abbiamo assunto la responsabilità doverosa di prendere il controllo dell'azienda attraverso l'amministrazione straordinaria in quell'occasione venne qui all'alba per incontrare come oggi i lavoratori e le loro rappresentanze. Il funzionamento degli Alto Forni 1 e 4 permetterà di raggiungere circa il 50 per cento della capacità autorizzata per lo stabilimento ma garantirà i progetti legati alla trasformazione tecnologica dello stabilimento ovvero la sua decarbonizzazione attraverso i forni elettrici in attesa della vendita che sembra più vicina. Tre player internazionali tra i più significativi di diversi continenti hanno presentato una manifestazione di interesse per l'intero asset produttivo e qualcun altro potrebbe aggiungersi perché la procedura di gara permette che altri si aggiungono incordata o anche da soli in questo processo e io penso che potrebbero raggiungersi altri.